Consigliere Antonio D'Ambrosio, sono finalmente partiti progetti di pubblica utilità, chi vedono protagonisti e a chi sono destinati? Finalmente anche a Torre del Greco sono partiti progetti del PUC, PUC per lavori di pubblica utilità comunale, rivolte a tutti i possessori e i percettori del reddito di cittadinanza. Quindi finalmente chi possiede il reddito di cittadinanza potrà rendersi utile dando un aiuto e un asilio al comune. Che tipo di attività verranno fatte? Sono stati finalizzati dei progetti inerenti vari settori dell'ambito comunale, partiranno, anzi già sono partiti, per quanto riguarda la guardiania e la custodia nei locali del cimitero. Poi si partirà con la pulizia del verde, con l'oasi vesuviana e poi tutto il resto, la progettazione e la formazione presso l'associazione La Stecca. Per quanto tempo dureranno queste attività? Le attività sono rivolte ai percettori fino alla durata del loro reddito, quindi per minimo 6-8 mesi avremo questi utenti che daranno veramente una mano e un ausilio al comune. Perché il problema dei dipendenti è un forte problema che non solo riguarda la città di Torre del Greco, ma come ben sapete è un problema di carattere nazionale. Quanti sono i percettori del reddito di cittadinanza che verranno coinvolti? Attualmente i percettori a Torre del Greco siamo sul mieo di domande, quindi ci sono quasi 2.000 utenti, però nel corso dell'anno precedente sono state selezionate tramite dei colloqui, quindi non sono stati chiamati ancora tutti, anche perché dei mesi siamo stati fermi purtroppo per questa pandemia e i colloqui in presenza erano vietati. Abbiamo riattivato le procedure, questo anche all'aiuto del dirigente e del personale dell'ambito Napoli 31. Quindi piano piano cerchiamo di attivare anche altri utenti. Grazie a tutti.